non stiamo aspettando a te lo sai si e non dovevate scusa mangiate mangiate ue ragazzi vedi quello che devi fare perché qua nessuno ti può sfumare più hai capito il signore non è che mi vuole chiedere dei sogni la individuate proprio bene il soggetto e quindi voi dovete diventare il marchese ottavo favetti mio padre poi inerziare la testa del pero e burlone qui mio zio il principe di casa per sempre vostro umilissimo parente gaetano semolo semolino se mi fate mangiare io mi chiamo pure mamma potrei avere l'onore di avervi a pranzo con me grazie a voi vi fa veramente tanto piacere che noi restiamo a pranzo qua ma moltissimo ma io parlo con i miei diletti parenti ma che c'è messo un vasso d'aere in testa o un remoto una brava donna queste cose non le fa nobili humana vincere grazie a tutti grazie a tutti